Stagflazione, solamente il termine incute un po' di timore. Il problema però è che sono sempre di più gli investitori e gli economisti che stanno parlando di una possibile stagflazione. In questo video qui andremo a vedere perché in periodi inflazionistici ancora peggio di stagflazione rendono gli investimenti più difficili. Piccolo e breve appunto, parliamo di inflazione quando aumenta il prezzo generalizzato dei prodotti e dei servizi, quindi aumenta il costo della vita. Parliamo invece di stagflazione quando aumenta l'inflazione ma non aumenta la crescita economica o per meglio dire quando c'è un alto tasso di inflazione ma la crescita economica non va di pari passo quindi o diminuisce o comunque non sale abbastanza da superare il tasso di inflazione. Fatta questa doverosa premessa andiamo a vedere come si comportano le differenti tipologie di investimenti in periodi di stagflazione. Come sempre ragazzi se vi piacciono questa tipologia di contenuti, quello che vi chiedo di mettere un bel mi piace al video e di iscrivervi al canale perché in questo modo mi aiutate tantissimo con l'algoritmo di YouTube e in più mi va molto piacere. Potremmo subito partire con l'esempio degli Stati Uniti negli anni 70 periodo nel quale c'era un alto tasso di inflazione e scarsa crescita economica. Bene, in quel periodo negli Stati Uniti azioni e obbligazioni hanno avuto dei scarsi risultati. A differenza invece delle azioni e delle obbligazioni, le commodity quindi le materie prime e gli immobili hanno reso molto bene. Ci sono davvero tantissimi articoli che si possono andare a leggere di quello che è successo negli anni 70 negli Stati Uniti però quello che è successo in quegli anni è molto simile ad un evento più moderno che è l'esempio che prenderemo in questo video. Sto parlando della Turchia. Infatti la Turchia sta vivendo un'inflazione molto molto alta. Sono usciti fuori i dati. Giusto l'altro giorno si parla di addirittura un 69%. Tuttavia però a differenza del Venezuela per esempio non è un'economia in crisi o con una vera e propria iperinflazione. Iperinflazione almeno non in questo momento. Inoltre la Turchia è anche un'economia del G20 quindi non sono gli ultimi arrivati, non è un'economia da noccioline. Il problema dei turchi però è che chiunque sia entrato in possesso di parecchio denaro contante o di obbligazioni turche ha praticamente sviscerato il suo potere di acquisto. Nel frattempo il mercato azionario turco è aumentato di circa 2,5 volte in termini di valuta locale quindi di lire. Tuttavia però in termini di dollari il mercato azionario turco è stato dimezzato e poi ha avuto un andamento laterale. Questo perché le valutazioni delle azioni turche sta diminuendo continuamente ed è difficile, sempre più difficile per le società, operare con delle unità di conto che stanno deteriorandosi sempre di più in maniera così rapida. Il PIL dell'economia turca ha registrato una tendenza a ribasso ormai dal 2013. Se parliamo invece di oro, ecco l'oro in termini di lire ha fatto molto meglio negli ultimi 5 anni con un aumento di circa 6 volte quindi del 600%. Lo stesso discorso vale anche per le materie prime, infatti le materie prime in Turchia molte di queste hanno avuto dei risultati anche parecchio superiori all'oro. Se parliamo invece dell'elefante nella stanza quindi Bitcoin, in termini di lire è aumentato di circa 80 volte negli ultimi 5 anni. Questo è dovuto sicuramente a una svalutazione della valuta ma anche probabilmente a un'adozione di massa. Abbiamo visto Bitcoin in generale crescere tantissimo negli ultimi 5 anni. Quando parliamo invece di settore immobiliare è un po' più complicato perché i dati innanzitutto sono un po' più difficili da reperire, inoltre è anche un settore molto più illiquido. Però in questo file troviamo alcuni dati dei prezzi delle case turche fino al 2021. Come possiamo notare sono approssimativamente raddoppiati negli ultimi 5 anni. Questo in termini di lire nominali, mentre sono rimasti stabili in termini di aggiustamento all'inflazione. Ora, da questi dati però evince subito una cosa fondamentale, cioè il fatto che il settore immobiliare è uno di quei settori nel campo degli investimenti che in periodi di alta inflazione e di deflazione ancora peggio rende meglio rispetto ad altri. E per semplificare il tutto facciamo un esempio numerico. Ora, mettiamo il caso. Prima che iniziasse un'inflazione pesante o una stagflazione, i prezzi delle case in un mercato a ipoteche di lungo periodo avessero un tasso di interesse sui mutui molto basso. Supponiamo di acquistare una casa da 100.000 euro, con un acconto di 20.000 euro ed un tasso fisso di 80.000 euro. Per via di questo altissimo tasso di inflazione che abbiamo visto verificarsi, mettiamo il caso che in 5 anni il prezzo della casa raddoppia a 200.000 euro. Questo significa che ho ancora un mutuo da pagare di 80.000 euro, della stessa dimensione, quindi non è cambiato praticamente nulla, ma il mio patrimonio netto è passato da 20.000 euro a 120.000 euro. Ovviamente meno manutenzione, tasse e commissioni. Come possiamo notare è un investimento molto buono perché il nostro patrimonio è aumentato di parecchio e senza neanche essercene resi conto siamo a t-shirt sulla valuta. Abbiamo preso come esempio principale la Turchia, ma in generale se andiamo a prendere anche paesi sviluppati o in via di sviluppo, quando la situazione macroeconomica è questa, i dati bene o male sono sempre gli stessi. Ed in generale è anche bene ricordare che quando c'è un'insolita inflazione molto alta c'è anche un elemento significativo di stagflazione. Abbiamo appena visto che il settore immobiliare, quando c'è un'inflazione insolitamente molto alta, tende ad andare molto bene. Ora non staremo a vedere e analizzare settore per settore. Farò un recap di tutti i migliori settori in periodi come questi alla fine del video. Però direi che è almeno doveroso andare a vedere come rendono le azioni in un periodo di alto tasso di inflazione e scarsa crescita economica. Allora azioni in realtà è un termine molto generale perché ci sono diverse tipologie di azioni, ci sono diverse tipologie di business. Le azioni però principalmente le potremmo dividere in azioni growth, quindi azioni che aziende che non sono redditizie ma che hanno un alto potenziale di crescita. Le azioni value invece che tendenzialmente hanno una bassa valutazione sono aziende redditizie che pagano regolarmente dei dividendi. E poi c'è tutto il resto che potremmo mettere nel mezzo. Quindi ci sono dei titoli che sono un po' growth, un po' value. Allora partiamo subito dalla risposta. Tendenzialmente in questi periodi le azioni value tendono a performare molto meglio rispetto alle azioni growth. Ecco un esempio della storia degli Stati Uniti fino all'autunno del 2020. Possiamo notare che i periodi con una sovra performance delle azioni value sono stati gli anni 40, 70 e 2000, che sono anche stati tra i principali decenni inflazionistici durante questo periodo. Quindi c'era un alto tasso di inflazione. Invece due decenni in cui le azioni growth hanno reso molto meglio, hanno sovra performato in modo significativo, sono stati gli anni 30 e dal 2010 in poi. Quindi gli ultimi 10-12 anni le azioni growth sono andate molto meglio rispetto alle azioni value. Però questi erano periodi disinflazionistici, periodi nei quali non c'era l'inflazione o comunque il tasso di inflazione era davvero molto basso. Facciamo quindi un piccolo recap. La liquidità, quindi il cash e le obbligazioni non performano bene, non è un qualcosa di consigliato in periodi di alta inflazione. Ovviamente sempre differenziare la famosa frase detta da Redaglio, cash is trash, quindi i soldi fanno schifo di non tenere soldi in periodi come questi. Bisogna sempre cercare di capire da chi vengono dette le cose. Anch'io se fossi a Redaglio che ha Nedge Fund, più grande del mondo, che ha miliardi e miliardi in liquidità, direi cash is trash. Ma per una persona normale cash is not trash. Perde di valore ma un po' di cash non fa mai male averceli, soprattutto in periodi come questo. L'obbligazione invece perché non va bene? Per il semplice motivo che un'obbligazione è una promessa di pagare una certa quantità di denaro in futuro a colui che stipula un contratto e ci presta dei soldi, però il potere di quella valuta viene diluito per via dell'inflazione nel corso degli anni. Le azioni invece non vanno granché meglio, solitamente in periodi di alta inflazione, però qui è probabilmente sbagliato generalizzare. Tendenzialmente le azioni growth fanno più fatica, mentre i titoli value vanno molto meglio. Questo non significa che tutti i titoli growth sono trash e questo non significa che quindi tutti i titoli value allora bisogna comprarli. Perché ovviamente ci sono titoli growth che anche in periodi di inflazione riescono a crescere bene, ci sono invece delle azioni value che non performano magari granché, però stiamo parlando in linea generale. Però perché se parliamo di azioni in generale in periodi inflazionistici non rendono granché bene? Perché quando parliamo di azioni dobbiamo ricordarci che dietro ci sono delle aziende. Se il potere della valuta è stabile, è più facile per un'azienda pianificare il futuro, ma se è instabile, se la valuta perde di valore, a quel punto è più difficile pianificare e cercare di capire rendimenti anche per le aziende. Quindi solitamente le aziende aumentano le entrate quando aumentano i prezzi dei prodotti, però dall'altro lato se aumentano anche i prezzi di produzione e le spese, a quel punto per un'azienda è complicato pianificare, e cercare di capire come ottimizzare al meglio il processo aziendale. Il settore immobiliare invece performa bene in periodi di alta inflazione, abbiamo visto anche l'esempio poco fa, ma i grandi vincitori tendenzialmente in periodi inflazionistici sono le materie prime industriali, come per esempio il petrolio, il rame, eccetera, eccetera. Quindi per definizione quando aumenta l'inflazione, aumenta il prezzo delle materie prime. Di solito durante un contesto inflazionistico le materie prime sono sottofornite, spesso occorrono anni per portare abbastanza nuova offerta, il che ovviamente pesa sulla crescita economica reale e contribuisce a una situazione di stagflazione. Tuttavia però è bene specificare che anche in periodi vantaggiosi per l'oro, come in questo caso, le materie prime possono comunque essere volatili. Le materie prime monetarie invece come l'oro o anche bitcoin potremmo metterci dentro, tendenzialmente non hanno una stretta correlazione a livello temporale con quella che è l'attuale situazione macroeconomica. L'oro in particolar modo tende a fare molto molto bene quando c'è un'alta inflazione, ma c'è anche il rallentamento della crescita economica, quindi stagflazione piena. Per bitcoin il discorso invece è un po' più particolare, nel senso che in Turchia, rapportato alla lira, come abbiamo potuto notare, ha fatto benissimo negli ultimi 5 anni. Però non abbiamo ancora quella certezza ufficiale, perché non è un asset che esiste da decine e decine di anni. Quindi in teoria dovrebbe fare bene, in pratica poi bisogna vedere. Ovviamente ci sono i bitcoin maximalist che dicono che bitcoin con l'aumento dell'inflazione andrà a 100, 200, 300k. In realtà hanno le loro ragioni per dirlo, come possiamo notare. Però dall'altro lato ovviamente sono dichiarazioni che lasciano un po' il tempo che trovano, perché poi bisogna vedere quello che farà nel reale. Detto questo ragazzi, possiamo dire chiaramente che nell'ultime decine di anni siamo stati in una corrente disinflazionistica. La mano d'opera è andata benissimo, soprattutto grazie anche alla Cina, che ha aumentato di parecchio la mano d'opera, si è collegata a livello globale alla nostra economia, a quella degli Stati Uniti, eccetera. La breve eccezione inflazionistica degli ultimi 4 decenni, potremmo dire, è avvenuta intorno alla metà degli anni 2000, quando le materie prime sono diventate scarse e costose. Però il fatto è che nei paesi sviluppati, questa pressione non si è sentita, si è sentita di più nei paesi in via di sviluppo. La differenza è però tra 2010 ed oggi che anche ad oggi le materie prime sono scarse. Ma la differenza è che anche la mano d'opera è scarsa, infatti la Cina non sta più aumentando la capacità manifatturiera, come per esempio negli anni 2000. La capacità di spedizione globale è diminuita e sta diminuendo anche la globalizzazione, soprattutto per via delle guerre. Una cosa però fondamentale è che anche i periodi inflazionistici non per forza sono in linea retta, quindi non per forza un lungo periodo inflazionistico è sempre dettato da alta inflazione. In altre parole, quindi anche in decenni di inflazioni ci possono essere dei periodi di disinflazione e io penso che questo potrebbe essere il caso. Detto questo, non sono consigli finanziari, ma io personalmente in questo periodo mi sto concentrando principalmente sulle azioni value, sulle materie prime e su aziende che operano nel settore delle materie prime. Questo non significa che sto escludendo tutto il resto, assolutamente no, però significa che la mia concentrazione in particolar modo su questi settori. Un'altra cosa ovviamente su cui sono concentrato è sul fare trading, perché non mi interessa se il mercato, un settore è al rialzo, è al ribasso, io comunque sia posso guadagnare sia che il mercato salga, sia che il mercato scenda. Uno degli asset che personalmente mi piace di più in assoluto tra dare è bitcoin, ogni tanto faccio dei video sui trade che faccio, non è l'unico asset che trado, però è quello che in questo periodo mi sta piacendo di più, anche perché devo dire che in questo periodo mi sembra l'asset più intuibile da tradare, la piattaforma che utilizzo è quella di Bybit, di cui trovate sotto il link in descrizione, trovate anche il link del video tutorial completo che ho fatto personalmente. Arrivati a questo punto ragazzi, fatemi sapere sotto nei commenti quali sono i settori che state guardando con particolare attenzione in questo periodo, ditemi anche che cosa ne pensate di questi economisti e investitori che parlano di potenziale stagflazione, come al solito spero che il video vi sia stato utile e che vi sia piaciuto direi che anche per oggi è tutto, noi ci rivediamo molto molto presto nel prossimo video.